La storia di famiglia nel mosaico inizia nella seconda metà dell'Ottocento. Ho un ricordo di mio padre molto attivo in tanti ruoli, che nello studio andavano dall'esecuzione dei mosaici alla preparazione di grandi lavori molto estesi. Il primo lavoro dello studio Cassio fu un mosaico di mille metri quadrati. Il mio padre in questa bottega oggi sono rimaste l'impostazione del lavoro sui tavoli originali. Immagino il futuro di questa bottega in una maniera un po' più articolata. L'attività cursuale intercetta tanto l'apprendistato tradizionale quanto un settore completamente nuovo ed emergente come quello del turismo immersivo. L'attività cursuale intercetta tanto l'apprendistato tradizionale